Noi disturbiamo mentre firma autografi il capitano Gaston Brugman, ciao Gaston, tanto entusiasmo per voi, una bella cosa questa, io riparto dagli ultimi secondi di Foggia, rigore netto su di te? Sì, penso che si, penso sia visto, la palla è andata fuori, però non vuol dire niente, secondo me era rigore netto. Costisci un po' contro il Crotone, è ritornato l'entusiasmo? Ma noi l'entusiasmo c'è stato sempre, non è che ci ha cambiato per risultati non positivi, quindi siamo tranquilli. Come sta Gaston Brugman, abbiamo letto che oggi hai saltato l'allenamento? Sì, sì, saltato quello del pomeriggio, vediamo come prosegue questo. Però comunque ci sarai a Crotone? Sì, sì, penso sì. Che squadra è il Crotone? C'è Benali che conosciamo bene, Pettinari? Sì, è una squadra che comunque ha fatto la Serie A e ha lottato per la salvezza un anno fa, quindi sicuramente non è quello che la classifica dice. Ti chiedo un'ultima cosa, intanto continui a firmare autografi, ti chiedo quanto ti trovi bene dietro alle due punte, perché negli ultimi minuti di Foggia ti ho visto particolarmente ispirato. Ma no, l'ho ripetito sempre, non è questione di ruolo, sicuramente posso fare trequartista, anche il ruolo che sto facendo adesso. Tutti questi tifosi che ti senti di promettere? No, niente, che daremo tutto fino alla fine.